Ricerca e formazione come chiave per la ripresa e questo il tema con il quale si chiude il ciclo di incontri da Sud organizzati dal senatore Dario Stefano, Presidente Commissione Politiche Unione Europea dedicate alle risorse del Next Generation, con la partecipazione del Ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa. PNRR Mezzogiorno è questo il titolo della giornata di approfondimento che ha visto alternarsi sul palco insieme al Ministro Messe e allo stesso Stefano, un ricco parterre tecnico-istituzionale. Dopo i saluti del prefetto di Lecce, Maria Rosaria Trio, e del rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, sul palco si sono alternati i contributi del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, di Gianfranco Viesti, ordinario dell'Università di Bari, Marco Bentivogli, coordinatore e cofondatore di Basitalia, Marina Mastromauro, imprenditrice della pasta Granoro, Giorgio Centurelli, dirigente servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per chiudere Giuseppe Catalano, coordinatore struttura tecnica di missione PNRR del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, con la moderazione di Alessandro Cecchi Paone. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, spiega Stefano, è un'occasione irripetibile per ripartire ammodernando il Paese, ma è anche uno strumento per avviare definitivamente un'azione di governo capace di risolvere il divario tra Nord e Sud, per ricuscire pezzi di territorio che vivono disparità di servizi materiali e immateriali non più giustificabili, ma anche di diritti universali negati.